hola todes eccoci qua times up e come potete vedere non sono da solo con me ci sono Gianmarco Lotti e Marco Dolcinelli a cui do i benvenuti grazie per l'invito e insomma un saluto a tutti gli ascoltatori e spettatori grazie Giuseppe saluto Marco che ogni tanto diciamo ci sentiamo e però difficile che ci ci vediamo e facciamo robe video quindi è sempre sempre un piacere perché hanno detto così perché Marco e Gianmarco condividono due esperienze di podcast molto interessanti che consiglio che sono tunnel dedito a tutti gli altri calci possiamo dire così sì ci sta spesso non è nemmeno calcio infatti ho detto calci letterale del termine giusto giusto ci può stare ci può stare e poi destinazione paradiso che è dedicato alle serie minori italiane però io perché li ho interpellati li ho interpellato Marco come moderatore e Gianmarco come mio contraltare di una questione Time's Up oggi fa una deroga palla di calcio e fa le parti dei tifosi la parte mia in qualità di tifoso della Salernitana e Gianmarco in qualità di tifoso dell'Empoli anche giornalista che comunque in questi anni ha seguito e continua a seguire la squadra azzurra perché li ho chiamati perché nella scorsa giornata abbiamo visto la Salernitana perdere con una big e l'Empoli vincere con una big ora il punto è esistono davvero questi due campionati di cui si vocifera cioè il fatto di affrontare le prime della classe e poi tutta la sequela dei scontri diretti che rischia di essere sempre più macabra fino a raggiungere livelli limite oppure non c'è niente del genere e bisogna andare partita per partita che sembra anche molto retorico e ora facciamo parlare prima Marco magari che è l'esterno e può darci lui il punto da parte sua beh allora io non so se sia non ho ancora un'idea ben chiara sul se ci siano effettivamente questi due campionati penso sia una cosa che si lo scopriremo un po' andando avanti col tempo però effettivamente sulla carta questo campionato di Serie A confrontandoli con gli ultimi è quello dove diciamo la chiamiamo la classe media il gruppo di squadra della classe media è forse più assottigliato rispetto al passato c'è un grande gruppo di squadre che lottano per i piazzamenti europei un grande gruppo di squadre che lottano per non retrocedere e le squadre in mezzo sono poche credo che mi viene in mente la Sampdoria la Fiorentina forse un po' non sono neanche sicuro di dire il Torino perché ha fatto qualche colpo negli ultimi giorni di mercati ma c'è qualcosa che non mi convince in quella squadra per cui da esterno insomma la vedo è un c'è un qualcosa in questa teoria delle due campionati però insomma credo forse ancora un po' presto per dirlo e a quanto pare insomma alcuni risultati della prima giornata hanno anche un po' smentito perché in effetti la vittoria dell'Empoli a Torino è abbastanza tramorosa nonostante c'è da dire che sia venuta in circostanze abbastanza particolari perché insomma la Juventus è stato l'Empoli ha forse trovato la Juventus nel miglior momento per affrontare la Juventus forse negli ultimi dieci anni c'è una squadra anche un allenatore nuovo tra virgolette comunque allegri già stato lì ma deve un attimo mettere le cose a posto e soprattutto una squadra che sta cercando ancora il suo assetto e che aveva perso poche ore prima praticamente il giocatore principale degli ultimi tre anni adesso vediamo sono comunque convinto che secondo me c'è un fondo di verità però poi vedremo nelle prossime giornate beh io credo che questa questione dei due campionati di cui si parla dicendo tipo la Salernitana ha perso con la Roma ma comunque è un campionato differente i punti non vanno fatti contro la Roma siano delle dei discorsi che lasciano il tempo che trovano come tutti tutte le frasi fatte giornalistiche o meno che ci sono nel nel calcio italiano i punti vanno fatti a prescindere da chi hai davanti perché il il bello del calcio sta proprio in questo e anche la bellezza del campionato la danno le le squadre della classe media come diceva Marco classe media anche medio bassa se le squadre della classe medio bassa rinunciano ad andare a prendersi punti contro le squadre della fascia alta o altissima del nostro campionato allora non ha più senso seguire il calcio cioè perché un Empoli o una Salernitana a Torino o con la Roma devono partire svantaggiate è ovvio che sulla carta non abbiano i favore del pronostico è ovvio che se uno va a vedere i famosi fatturati va a vedere le rose siano squadre totalmente differenti chi se lo immagina che Mancuso alla seconda partita in Serie A possa vincere contro Dibala e la difesa dei campioni d'Europa chi chi lo immagina così come chi è che si può immaginare che eh Coulibaly arrivato in Italia eh col barcone eh possa giocare con con la Salernitana e diventare uno dei come posso dire trascinatori del centrocampo e segnare con la Salernitana primo gol in Serie A sono cose eh sono a costo di diventare retorico però sono quelle variabili impazzite che rendono il calcio un po' più bello è logico che Empoli e Salernitana abbiano due stili di gioco differenti però hanno due stili di gioco chiari e questo secondo me le rende due neopromosse eh anche se diversamente però interessanti ehm la la roba dei due campionati purtroppo è eh un modo per per rendere più facile e anche meno come posso dire ehm per non non pensarci troppo a analizzare una una vittoria o una sconfitta la Salernitana ha perso con la Roma ci può stare in realtà dipende anche da come perdi eh perché perdere come l'Empoli ha perso contro la Lazio è un conto perdere senza giocare come ha fatto il Torino a Firenze è un altro conto cioè rimane rimane sempre tutto ancorato a quello che dicevamo prima ovvero eh la la bellezza di un campionato la fa la la qualità di gioco di queste squadre qui ovvero sia il fatto che un Empoli vada a Torino a giocarsela una Salernitana che per quanto con i mezzi che ha perché gioca un calcio differente dicevo prima prova a giocarsela con la Roma e nel primo tempo comunque insomma era zero a zero poi è logico che sono partite che prendi un gol poi ne prendi quattro tanto perdere un a zero quattro a zero quel punto è uguale questo punto secondo me ci sono due questioni che sono molto divimenti la prima è detta tu il Torino non è è andato a giocare qualcuno mi potrebbe contestare perché noi cosa abbiamo fatto cioè noi siamo messi come si dice oggi abbiamo messo il pullman sperando di andare avanti e lasciando il povero Bonazzoli da solo questo non perché me lo so invetto Dio perché letteralmente le posizioni medie hanno due linee così e Bonazzoli puntino tipo particella di sodio verso la metà campo dall'altra parte ho detto una frase nel nel podcast di di box to box il consiglio in cui insieme a una un amico comune donato di martino approfondite alcuni aspetti che toccano anche questa puntata dici io non faccio filosofia e qui però c'è la filosofia c'è la filosofia di gioco che che può cambiare può magari in via di definizione come il Torino cioè il Torino magari ha affrontato una partita contro una squadra fiorentina con una filosofia di gioco già ce l'ha e quindi magari non non è ancora in grado di svilupparne una o addirittura il Bologna ha rinunciato per certi versi una certa filosofia di gioco giocando con un baricentro decisamente più basso rispetto al suo standard però appunto l'ha fatto contro l'Atalanta e tra l'altro in questo doppio campionato non c'è questo paradosso per cui le squadre di Gasperini se beccano una squadra che gioca con le due linee basse fa una felica in mane cioè noi paradossalmente per come giochiamo noi siamo la criptonite di Gasperini potremmo farlo tranquillamente sì sono d'accordo io non voglio fare il filosofo è una frase che ho detto perché magari ero andato un po troppo sui massimi sistemi a parlare del gioco dell'Empoli però se si parla di filosofia è vero l'Empoli e la Serenitana hanno due filosofie quella dell'Empoli sarà perché lo seguo sarà perché lo sono simpatizzante e via discorrendo mi piace un po' di più si avvicina di più al mio modo di intendere il pallone però è logico che uno fa con i mezzi che ha la Serenitana punta tanto sulla difesa Castori è un allenatore che nella fase difensiva ha sempre fatto bene però non è detto che non sia un'arma su cui puntare è come avere un centrocampista che ti fa gol da fuori area che fai ci rinunci giusto perché devi fare gol da dentro l'area sto facendo un esempio stupido no se hai una buona difesa e puoi giocare cercando di prendere meno gol possibile e ripartire come ha fatto la Serenitana anche l'anno scorso allora è giusto che tu lo faccia la filosofia dell'Empoli mi piace molto perché è una filosofia come abbiamo avuto modo di dire molto improntata sulla produttività lo stesso Andrea Azzoli dice non mi interessa il bel gioco mi interessa che il gioco sia produttivo se il gioco produttivo è anche bello tanto meglio ovvero gli attacchi dell'Empoli contro la Juventus e contro la Lazio se si guarda il numero di attacchi sono stati in entrambi i casi se non pari superiori a quelli di Lazio e Juventus e denotano una filosofia offensiva della squadra filosofia offensiva che però vede tra i giocatori che toccano di più il pallone i centrali e il portiere quindi chi magari non è avvezzo al calcio dice ma questo è un controsenso in realtà no perché il gioco dell'Empoli parte da dietro e si sviluppa cercando gli spazi eh sia in orizzontale sia in verticale però non rinuncia al gioco eh in orizzontale come spesso fa la Serenitana eh l'Empoli non rinuncia al gioco orizzontale e tiene palla cercando il il varco giusto non a caso eh il possesso palla che è un dato piuttosto aleatorio su questo siamo d'accordo molto spesso però è dalla parte dell'Empoli perché eh giocando con Ricci che è il primo di solito che prende palla o con Luperto barra Romagnoli o con Ismaili riesce ad andare sulla destra fa toccare la palla alle mezzali la palla arriva a Bairami e Bairami qualcosa inventa e quindi diciamo che le azioni sono piuttosto piuttosto corali questo gioco di squadra è un gioco che l'Empoli ha da da anni è un gioco che eh non punta troppo sull'estro dei singoli ma sul sul collettivo una filosofia che si è vista con Sarri con Gianpaolo col primo Andrea Zoli poi si è vista anche l'anno scorso con Dionisi e che è incarnata all'interno della società ormai si prendono i giocatori gli allenatori per fare quel tipo di gioco lì quando è che a Empoli le cose vanno male quando si prende Iachini quando si prende Muzzi gente che quelle cose non le sa fare o quando si prendono magari troppe scommesse come Bucchi in quel caso era un momento in cui l'Empoli non aveva bisogno di Bucchi e Bucchi probabilmente non aveva bisogno dell'Empoli però quest'anno eh l'idea di gioco di tornare Andrea Zoli di eh puntare su questo gioco proattivo giocare eh in maniera molto ragionata eh è interessante oggi c'è un articolo di Dario Pergolizzi su Ultimo Uomo che dice il calcio non è un gioco facile è un gioco complesso e fa vedere come spesso gli allenatori cerchino di eh allenare di più la tecnica dei giocatori invece che le decisioni la strategia che sta dietro a tutto quello eh che precede il tocco del pallone eh anche a livello mentale e secondo me è una ehm una cosa che sta facendo molto bene anche 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 l'Empoli sia nel settore giovanili non a caso vinto l'ultimo scudetto con dei giocatori molto interessanti ma anche a livello di prima squadra perché sono giocatori che sanno bene come correre prima di dove correre e sanno bene come correre prima anche di quanto correre eh se si vanno a vedere i numeri dell'Empoli dei chilometri percorsi è una squadra e anche le heat map e le posizioni medie è una squadra molto da quel punto di vista molto rigorosa cioè che che eh fa quello che ci si aspetta da una squadra che fa quel modulo lì questo non vuol dire che sia banale ma che eh esegue benissimo i compiti che l'allenatore gli chiede poi come dico sempre da qualche giorno a questa parte l'Empoli ha vinto a Torino eh può succedere di tutto può anche succedere che finisca il campionato con solamente tre punti fatti a Torino è logico che una vittoria allo stadium faccia brillare gli occhi soprattutto prima della sosta e per settimane si parli solamente di questo il campionato eh dell'Empoli deve eh riprendere così come si è interrotto a Torino con un gioco eh interessante e con una difesa importante che è una cosa che alle squadre di Andrea Zoli è mancata negli ultimi anni sì se posso anche l'anno scorso il Benevento ha vinto a Torino e poi abbiamo visto tutti come è finita insomma non bene ecco sì 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 però è una vittoria differente sai lì Gagli segna su un errore di Arthur la Juve praticamente domina eh sì però è vero è quello che insomma eh hai vinto a Torino però insomma non è che il campionato finisce adesso se poi perdi contro Venezia Cagliari e Sampdoria dopo cinque giornate sei a tre punti e poco è valso fare una vittoria storica hai capito? sì no io volevo aggiungere da esterno sulla salernitana che ehm io comunque vedo nella salernitana una una certa filosofia un certo impianto ovviamente di stampo completamente opposto rispetto a quello dell'Empoli o rimanendo in ambito neopromosso anche rispetto a quello del Venezia ehm il problema della salernitana credo che sia che ha una rosa che insomma puoi fare quel gioco non puoi fare altro quei giocatori che hai a disposizione la la squadra l'anno scorso ha trovato questa quadra con Castori e ha 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 overperformato nel senso che ha raggiunto un risultato che probabilmente non era nelle previsioni della della scorsa stagione e secondo me tu beh me lo puoi confermare insomma probabilmente le vicissitudini societari hanno influito molto sulla costruzione di questa squadra per cui non è stato possibile fare eh investimenti grossi o comunque anche eh progetti tecnici più impegnativi e si è deciso di continuare su quella falsa riga eh prendendo alcuni giocatori che fossero più adatti alla categoria insomma Simi, Gaiolo, Bonazzoli e sperare che insomma le cose vadano bene cioè per assurdo con questa squadra che dove qualsiasi allenatore anche se si esonerasse Castori arrivasse qualsiasi altro allenatore non non può fare qualcosa di diverso rispetto a quello che fa la squadra adesso poi che questo modo di giocare sia la la tattica più giusta per raccogliere una salvezza in Serie A vediamo ci sono stati in passato degli insomma degli esempi positivi mi viene in mente il il Parma di D'Aversa quando andava bene anche se insomma era una rosa di tutt'altro livello vediamo è un tipo di gioco che probabilmente darà fastidio a molti eh però strapperà qualche punto negli scontri diretti e nelle giornate giuste ti consentirà magari anche di strappare qualche punto isperato eh è una strada che ha scelto la Salernitana rischiosa infatti secondo me lo dico un po' a mano in cuore perché mi sta simpatica è forse la candidata principale per retrocedere vediamo come andrà a finire insomma il punto secondo me è un altro nei momenti in cui sei salito con quella strada ma perché cambiare idea cioè infatti fosse per me diciamo che giocheremmo un calcio diverso però è la mia idea giustamente c'è un allenatore persegue un'idea di calcio è un'idea che in un modo o nell'altro di riffa o di raffa con la fortuna con la situazione dei contagi anche che ti ha supportato con partite strane dove comunque ne sei uscito alla fine sei arrivato lì non ha senso cambiare idea piace o non piace quell'idea lì e comunque ha il dovere di avere una possibilità cioè di potersi misurare con quell'idea di calcio idea di calcio che attenzione può funzionare magari in alcune situazioni magari che ne so io prima c'è stata l'Atlanta però per esempio chi ci dice che una Juventus non può fare fatica con quel sistema lì magari avendo anche già l'anno scorso ha avuto grossi problemi di finalizzazione magari che ne so con una squadra come può essere la Lazio può fare molta più fatica perché Sarri è un allenatore che un modo o nell'altro per aggirare quel tipo di sistema di festival lo trova non a caso il suo Napoli con le cosiddette piccole faceva le goleate mostruose quindi però non io non trovo giusto che a quel punto si butti l'acqua al mare ripeto io avrei usato un altro mare attenzione e e aggiungo un ulteriore aspetto marco ha detto una cosa già marco ha detto una cosa io cadrezori vuole un calcio produttivo è la stessa cosa di castori lui dice maniera un po più ruspante e cinica tenetevi i palloni mi porti tre punti mi intende dire quello è l'idea di essere produttivi di produrre quell'obiettivo lì che ovviamente è il risultato qui se andrebbe anche sul risultatismo ma andremo in filosofia spicciola però è il conto è il modo diverso di controllare il pallone di controllarlo gestendo in una certa maniera o non gestendolo perché comunque c'è tutto qui c'è tutto anche il discorso dei tedeschi che ti dicono che il 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 possesso palle è un modo di difendere e allora volendo dare non ti dico una conclusione ma un punto in questa storia è secondo voi entrambe e magari anche altre concorrenti quella strada produttiva l'anno è alla loro portata o comunque ci sono dei pezzi mancanti che renderanno che rendono già complicato da qui a due tre mesi il percorso prima già marco sull'empoli magari e poi marco per me sì questa strada produttiva è quella giusta pezzi mancanti non saprei allora a livello di mercato no perché l'unica forse l'unica zona dove avrei fatto qualcosa un po di più è la tre quarti se si fa male bairami comunque queste sono opinioni però per il resto secondo me a empoli c'era molta c'era scetticismo e c'era anche un po di dispiacere con la dio di dionisi arrivato andrea soli ha vinto in coppa ha fatto giocare bene contro la lazio ha vinto a torino quindi anche l'ambiente si è compattato quindi anche i fattori esterni possono aiutare le fondamenta per fare un campionato buono che non vuol dire che l'empoli possa salvarsi con la pipa in bocca io lo spero ma non succederà o almeno non credo che succederà ci sono le fondamenta per fare un campionato buono questo cosa vuol dire vuol dire che eh se hai un'idea è la cosa che vado dicendo ormai da tempo se hai un'idea poi eh i risultati prima o poi arrivano se riesci a eh non cambiare quell'idea i risultati prima o poi si fanno sentire perché non mi piace Mihailovic perché lui non ha un'idea o almeno la cambia ogni troppo spesso perché il Torino non mi piace perché gioca senza un senso ci sono queste squadre che non che giocano senza un senso se giochi scimmiottando un certo tipo di gioco è molto diverso da giocare credendo realmente in quel sistema di gioco e la Salernitana almeno parlo anche della Salernitana è una squadra che eh onestamente fa il suo calcio calcio onesto sincero e devo dire la verità non è il mio calcio citando l'amico Donato che eh a cui piace molto la frase il mio calcio ehm però se è quello il modo di intendere il pallone che ha Castori per la sua squadra e quel e l'ho fatto vedere già l'anno scorso è giusto che continui su quella falsariga lì certo le vicende societarie lo diceva prima Marco non hanno aiutato magari mi fosse arrivato un centrocampista di raccordo un po' più forte non dico eh dico un giocatore da da altissimi livelli ma anche un buonaventura per dire o un un attaccante ehm come poteva essere il Ribéry non di dieci anni fa ma di due anni fa quello che è arrivato alla Fiorentina la prima volta poteva poteva puntare un po' di più alla alla salvezza come Rosa non è messa benissimo non ha grandi nomi però c'è l'idea dietro di Castori staremo a vedere se da sola varrà però non è che Polisalernitana e Venezia che sono venute su siano tanto inferiori rispetto alle altre quindi vedremo sono d'accordo soprattutto sul fatto che non c'è tanta differenza fra le tre neopromosse e le altre che erano già in sedia che lotteranno per la salvezza penso allo Spezia che ha fatto molto male nelle prime due giornate e ha tra l'altro vari problemi perché spesso ci dimentichiamo che lo Spezia questa Rosa sarà deve portare fino a fin anno perché a gennaio non può fare mercato che mi sembra una bella limitazione a meno che non vincano il ricorso ecco eh lo stesso Bologna non mi convince per vari motivi eh l'Ellas ha una lunga serie di problemi che dovevo usare l'altra mezz'ora eh il problema di delle promosse è che probabilmente hanno eh tutte e tre delle mancanze dal per quanto riguarda eh l'Empoli e eh il Venezia è probabilmente un po' di di esperienza in Serie A perché anche le sorti dell'Empoli dal come la vedo io dipendono tanto da alcuni giocatori che potenzialmente sono molto forti ma che devono ancora diciamo dimostrarlo sono all'esordio esatto esatto penso a Bairami eh Parisi Ricci Mancuso esatto tutti i giocatori che potenzialmente se le cose vanno bene ti fanno una differenza beh è un altro livello ecco è il Venezia uguale anche perché il Venezia ha fatto un calcio mercato di cui io sono grande fan ma è un'enorme scommessa che se va bene ti fa salvare a 50 punti se va male non non vedi la zona promozione la salvezza neanche per sbaglio eh la salvezza invece ha un altro problema cioè che manca eh della qualità perché alla fine anche per fare un gioco come quello che fa Castori hai bisogno di qualità anzi forse ancora di più perché eh giocando in quel modo hai molte meno occasioni ed è importante avere dei calciatori che abbiano delle qualità tecniche che ti aiutino a sfruttare il più possibile quelle poche occasioni che ti capitano ritornando all'esempio che avevo fatto prima il Parma di La Versa c'era Gervinio che ti risolveva le partite oppure Kulusevski il secondo anno eh nella sala di interna faccio posso aggiungere due cose sì sì vai pure uno la qualità che ci manca non è da non è davanti per quanto a me non convinca Simi ma non in sé perché secondo me Simi ha bisogno di un sistema di gioco diverso ma questa è la mia opinione e vedremo se il campo mi smentirà ma manca della qualità in mezzo al campo questo è un aspetto perché ha un giocatore Ruggeri che ha gambe tecnica ma dall'altra parte Kecrida non ha dimostrato questa stessa cosa gamba ancora ancora tecnica no io però sono sul carro di Kecrida eh io sono sul carro sappiatelo per me un innesto a destra serviva e continuo a pensarlo e anche se Kecrida secondo me potrebbe essere utile per un'eventuale difesa a quattro io non mi sto sta cominciando a girare questa voce che si possa passare a un 4-4-2 con Kecrida terzino eh teniamo la mente se non sbaglio il 4-4-2 era l'idea iniziale di Castori quando era arrivato l'anno scorso poi ha girato verso il 3-5-2 diciamo che è partito con la difesa a tre però ha voluto anche gente con cui fare il gioco a quattro cioè per esempio lui ha voluto a tutti i costi cupis che era esattamente quella roba lì non era un fenomeno in un centrocampo a cinque ma avrebbe fatto perfettamente l'esterno a quattro quindi quando siamo andati col 4-4-2 avere cupis e cicerelli che non erano dei fenomeni ma erano dei giocatori di buona tecnica in serie B poteva dare su entrambe le corsie velocità e imprevedibilità che ha dato adesso questa opzione non ce l'hai più ma non perché mancano cupis e cicerelli perché mancano proprio gli uomini per fare quel tipo di lavoro lì e quindi manca tanto a centrocampo e culibali corre ha avuto il colpo straordinario col bologna è più vicino a quello visto con la roma che quello visto col bologna sì non è gli agliature ecco obbi il gol l'ha fatto nel derby nel derby di milano ma era una ciabattata che fine importa cioè obbi è quella roba lì la sana culibali visto anche qua col mali al passaggio a cinque metri ma non ha il lancio non ha l'inserimento cioè manca su quel fronte non manca tanto davanti manca dietro manca alle spalle di chi poi farebbe densità e tutto e ultimissima cosa sul venezia e poi magari poi chiudiamo si parla tanto del mercato del venezia molto hype molto hipster e tutto ma il venezia degli ultimi due anni con paolo poggi che il mercato ha fatto e voi l'avete raccontato a destinazione paradiso ha fatto questo mercato qua ha preso gente tramite reti di contatti procuratori contatti in giro e ha preso gente che non conosceva nessuno jonsen chi lo sapeva jonsen è venuto fuori il giorno di ritorno il giorno d'andata aveva dei lampi scartava faceva un paio di dribbling però era molto impreciso nel giorno di esploso jonsen e non è l'unico forte è venuto fuori nel seconda parte di campionato quindi è anche possibile che la categoria gli innesti e tutto magari venezia sia quella forza mentale aspetta zanetti e magari viene fuori senza dover fare grossi innesti a gennaio però una cosa una cosa giustissima cioè bisogna aspettare andrea soli zanetti castori perché quando quello che dicevo prima quando si ha un'idea poi e non si deve essere frettolosi il campionato è lungo magari i punti non li fai adesso l'empoli per adesso ne ha fatti tre di più di quelli che ci si aspettava quindi già questa donna è una cosa buona però i punti magari non li fai adesso li fai più avanti quando riesci ad avere la tua idea ben distribuita su tutto il gruppo che ha che ha in rosa ma infatti io sono convinto che il venezia aspetterà zanetti perché c'è tutta questa stagione tutto questo preparazione a questa stagione di serie a cioè hanno fatto un mercato troppo connotato in quel senso per non pensare che ci sia abbiano preso un grosso rischio calcolato per cui lo sanno anche loro che all'inizio faranno fatica per cui zanetti avrà bisogno di tempo perché mezza squadra è nuova viene da campionati da contesti completamente diversi e ha bisogno di tempo per ingranare per cui secondo me glielo daranno il tempo e io personalmente credo che il venezia alla fine la scommessa venezia alla fine pagherà poi magari si in effetti ha un po sorpreso perché per esempio anche l'anno scorso in b hanno comunque preso calciatori di categoria aspettava che magari quest'anno qualche calciatore di categoria per là lo prendessero alla fine ha preso solo caldara che anche lui comunque è un grosso punto di domanda perché viene da delle stagioni assurde però vediamo io sono un grande fan di quello che hanno fatto ma secondo me ha messo in conto possiamo retrocedere però facciamo a modo nostro cercando di provare a fare calcio a modo nostro è una scelta molto coraggiosa rischiosissima vediamo come pagherà scusate io direi che a modo nostro può essere anche il titolo e così abbiamo anche una chiusura del del cerchio io ringrazio ancora una volta marco dolcinelli e già marco lotti per esserci stati qui a times up che torna presto grazie a te giuseppe è un piacere saluto a tutti grazie a tutti